Ha una mezza barca di vantaggio ma sta rimontando in questo momento l'Alessero, l'Alessero che si è in forza in carattere l'Alessero sulla stessa linea e l'Alessero che si sta portando il vantaggio, l'Alessero che conduce, l'Alessero Caratte, bellissimo appunto appunto tra l'Alessero e l'Alessero Caratte, l'Alessero Caratte, l'Alessero Caratte, l'Alessero Caratte, bellissima gara, bellissima gara, l'Alessero che si annunca e attendiamo il risposto ufficiale del giudice. 3 5 2 1 4 5 3 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 14 15 15 16 15 15 16 15 16 17